Andrea Nascanzi, una vittoria che dà soprattutto morale oltre ai fronti. Sì, la prima di campionato con Modena non è una partita qualsiasi per noi. Ci tenevamo a far bene, a giocare bene. Naturalmente ero convinto che sarebbe stata una partita difficile. Entrambe le squadre hanno fatto tanti errori gratuiti, che probabilmente dopo un mese o due verranno eliminati. È un dato di fatto che abbiamo giocato anche sul filo delle emozioni. Siamo stati bravi a tenere duro, a non innervosirci. Nel quarto sette siamo partiti molto male, però poi alla volta siamo ritornati e alla fine abbiamo fatto una bella vittoria. La sua volta è stata proprio nel quarto sette. Sotto di parecchio siete riusciti a recuperare. Sì, la cosa bella è quando reagisci, quando non ci credi fino alla fine. Questo è un gruppo che comunque anche il sabato scorso con Berugia abbiamo giocato una partita dignitosa. Non siamo al meglio della condizione. Alcuni dei miei ragazzi ancora hanno bisogno di tempo. È naturale, è ovvio. Però sono molto felice dell'approccio. Sono molto felice dello spirito di squadra, della volontà di chiudere questa partita. Una parola in più per Mandiracci. Due esce, molto incontentissimo, fino a un momento improtettissimo. San Mandiracci pensiamo. Forse può dire santo, non so se in turchia si può dire che è un santo, però è stato molto bravo. Lo sai benissimo che noi siamo consapevoli di aver preso un giocatore giovane di soli 22 anni, con grandissimo talento. Si sta allenando con grande devozione, con grande volontà e a qualità obiettivamente di altissimo livello. Quindi lo aspettiamo. Che ti avevi detto, se riusciamo a dare qualche pallone in più nei tre metri, poi diventa difficile per tutti questo. A tutti i livelli, perché in modo particolare, nel primo set ce l'avete fatta, i due centrali col 100% in attacco. Poi da quel punto di vista un pochino siete andati a tratti, mi sembra. Hai ragione, ma ribadisco. Non mi aspettavo continuità. Cioè è quasi impossibile, no? Quello che è bello vedere è la voglia di stare in campo, la voglia di lottare. A volte ancora siamo un po' fallosi. Abbiamo fatto bene il primo set, il secondo ci siamo un po' distratti. Nel terzo ci siamo partiti bene, poi ci siamo fatti recuperare, con errori onestamente che non erano ammissibili. Però anche dall'altra parte della rete abbiamo fatto tre errori in attacco, due sanguinetti e uno rinaldi. Obiettivamente, ti ho detto, il finale del terzo set non è da far vedere a chi vuole giocare a pallavolo, perché non è stato molto bello, obiettivamente. Poi invece il quarto, loro hanno ragionato molto bene. Ci sono stati più quadrati, noi ci siamo un po' disuniti. Poi l'ingresso di F, Mandiraci, ha cambiato il volto della gara. Realmente è stato molto bravo, ma più che in prima linea, che lo so, perché questo è un giocatore di due metri e sei, salta, ha una bellissima coordinazione, è che ha tenuto benissimo la ricezione e ha battuto benissimo. Quindi ci ha dato veramente tanto. Grazie. 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 Grazie.